Con te l'ho previsto l'editor di questa giornata, ma parlo in questo momento a nome di tutta la società editrice anche del nostro gruppo. E in polvo per dare saluto un ringraziamento a Irene Enriquez, a Giovanni Olli e a Giuseppe III per aver accettato questo invito e aver trovato anche il tempo di essere con noi tra le innumerevoli impegni del Salone. E ringrazio naturalmente Roberto Cicala per aver scritto questo libro e per aver messo al servizio la sua conoscenza, la sua competenza nel mondo dell'editorio. Questo libro origina, cosa avete capito, dal fatto che la società editrice e il murino raggiunge il settantesimo anno della sua attività. E' un risultato ragguardevole, ma anche se sto seduta vicino. Siamo i più giovani tra questi piccoli, molti che non c'è. E' un risultato ragguardevole che guardiamo, il cui merito va soprattutto ai nostri lettori e ai nostri lettori a questo incontro che si rinnova nel tempo. Di storia del murino, è stato scritto, è stato scritto in prova, è stato scritto da altri, come anche di storie dei piccoli, che spesso sono incentrate ovviamente sulle personalità. Sono incentrate sul protagonista, per volte con grandi visioni, che sono riuscite a dare vita a queste intraprese culturali, meno sui luoghi. Quindi questa collana, che a sua volta è portato in dieci anni, è una collana di storia di lunghezza, che usa gli uomini proprio come gli bandelli, e quindi ci sembrava, in qualche modo, di poter celebrare, tra virgolette, il nostro importante anniversario dentro una storia corporale, che, in qualche modo, vende l'idea che il buon risultato di un uomo stesso è il risultato di tutti. E' uno risultato di un vero comune non professionale. I luoghi, qui Roberto ha avuto un sopente da fare, a trovare un itinerario, a selezionare luoghi, a dare, in qualche modo, una sequenzia di fama, un itinerario, come l'arrivo da collare, ed è privilegiante, naturalmente, aree geografiche, ma soprattutto serie, serie storie. Faccio un inciso. La collana usa i luoghi come dei bandelli, perché i luoghi sono oggettivamente visibili, non li marchiamo ogni giorno, ma sono talmente quotidiane a volte che non li vediamo nemmeno più, e non vedendo i luoghi, non vediamo nemmeno più la loro storia. In quei casi, cerchiamo di riconferire uno spessore, di rinitere, di rinitere, di rinitere, di rinitere, di rinitere, in una costruzione. Oppure ci sono i luoghi come i nostri, luoghi vittoriali, che sono invece luoghi appartati, luoghi, in qualche modo, non accessibili, e che per lo stesso motivo alimentano tra voi le metodologiche, sono ammantati da ore fascinose, e anche in questo caso abbiamo cercato di dare loro una fattualità storica. Quindi, l'itinerario ha scelto delle aree geografiche, delle seccole storiche, senza trascurare però la finalicità di un'editoria italiana che è passata. Infatti, anche nel caso degli editori più recenti, più giovani, di generazioni, decisioni, è una roba molto complessa. Direi che ti lascio la parola, non è stato semplice l'itinerario, ma è l'itinerario, come vedrete, molto festeggi. Perché l'editoria italiana è l'editoria polifomica, policentrica, dove anche la provincia gioca un ruolo non secondario. E a questo noi abbiamo potuto dare attenzione. Quindi, grazie per aver guardato. Grazie, grazie a tutti voi. Sì, questo è un viaggio personale, e sottolineo molto soggettivo, nell'Italia dei libri, nell'idea di un paese fatto di isole, un'arcipela di isole, come le lungole del manifesto qui sopra, del Salone del Libro di quest'anno. Isole reali, che nascono però da sogni, quasi sempre da sogni. sogni di cultura, sogni di impresa, sempre per una società migliore. E pur nella biodiversità, bibliodiversità, scusate, bibliodiversità che per noi è molto importante, per una ragione ben precisa, perché il nostro è un paese variegato, un paese di teologenio. e provo, in qualche modo, a raccontare questa bibliodiversità, grazie alla fiducia degli amici del Puglio dei Morbi. D'Alta di Rabonato, Andrea Giolina e tutti gli altri. Perché i libri sono, in fondo, dei luoghi. E i luoghi, a loro volta, plasmano un po' i libri. Come le case, le cucine nostre, che creano le nostre famiglie e gli editrici si chiamano, non a caso, case. Non è banale, ripetono. Nelle redazioni, noi addetti ai lavori, le chiamiamo cucine. Voglio accompagnare i lettori dove nascono i libri che noi amiamo, scoprendo tante curiosità insieme. Per esempio, i luoghi, i luoghi magici. Pensiamo a Villa della Loggia di Giunti, dove, si dice, è stata ordita la congiura dei pazzi contro i medici. Ma anche personaggi, pensiamo, siamo qui a Dorino, un Bidelli dell'Università, Giambichelli, che, ad un certo punto, decide di provare a fare delle disperse, alla buona, per l'Università. Ed è tuttora un editor importante in ambito diversitario. Pensiamo anche ai libri un po' creativi. A me piace la vicenda di Valentino Bombiani, che aveva un'idea un po' pazza, quella di un dizionario delle opere e dei capolavori, dei personaggi, che lo fa durante la guerra, solo che, ad un certo punto, finito di comporre tutto il libro, si accorge che manca la carta, perché si fa fatica a trovare la carta. A quel tempo, lo ricordo, a scuola si insegnava che si può usare il verbo avere anche sezzana con l'accento sull'ana. E allora lui fa togliere dalla nipote tutte le arca, cambiando l'accentante, tutte le biofoniche. recupera più di 150 pagine e con la carta che aveva riesce a pubblicarla a prime edizioni di questo suo folle dizionario delle opere. Oppure i lochi, pensiamo i lochi, ci sono tante storie belle. Quella di Alberto Mondadori non voleva fare una casetrice che doveva chiamarsi come proprio un segno friudiacale, sagittario. Pronti e attenti via, ma c'è già un'altra collana di venitori milanese. Però il loco lo vuole tenere, la freccia, però poi la chiamerà, come tutti sappiamo, il saggiatore. Oppure i numeri civici, i passaggi di via Biancavano, da 1 a 2, negli anni 80. E anche, sfattando alcuni miti, il bianco degli arreti di Inaudi non è di Albert Steiner, ma è di Franco Berlada, architetto, o di Parmigiano. E poi pensiamo anche a tanti indirizzi cari. Cari a me, per esempio, e a tanti della mia generazione, via Bianca di Savoia, la sede precedente fino agli anni 70 di Mondadori. Prima della mitica sede a Segrate di Niemeyer, che forse era la sede più bella al mondo di una casa, che invece. Bene, via Bianca di Savoia è dove si scriveva per Topolino, per ricevere i punti delle giovani Barbò. Ecco, via Bianca di Savoia, un indirizzo che conta molto. Ecco, ci sono, io credo, storie, ma anche prospettive. Disno che si fanno i libri perché il passato e il futuro hanno più evidenza del presente, come ha scritto una volta in Prolocalvino che uno che si dipendeva sia di libri che di parole, che di luoghi. Ecco, allora proviamo oggi, festeggiando i 70 anni del buino, a scoprire il luogo del cuore di dinastie di Vitori. Irene Enriquez, Giovanni Oevi, Sveglia III e seguiamo l'ordine delle date di fondazione. E quindi iniziamo con Zanichelli che nasce a Modena nel 1259, poi arriva a Bologna, dentro San Petronio, dico solo poche cose quasi banali, libreria, una stanzetta per cartucci, c'è sempre la Brusgo, carte da briscola, non mancano. E due curiosità, ne parlavo prima con il grande presidente Federico Enriquez, le penne d'oro Aurora, che non sono più legate alla società, che però vennero date agli autori che vendevano sopra il milione di copie. E' un cavale, una bella penna d'oro di Zanichelli. E un milione di lire è quanto è costato il dizionario Zingarelli, acquisito da Bietti nel 1941 dal direttore di allora, il direttore editoriale della Monica, che era militare in Albania, chiede un permesso, torna in Italia, firma il contratto, ritorna al fronte e proviene Zingarelli e Zanichelli. Ecco, lascio la parola a Irene Pia Ringwest, la ringrazio per essere qui, il direttore generale Zanichelli, perché non ci parla un po' prima o seconda. Grazie, parlo molto volentieri, grazie nel tempo. Vedete la sede della Zanichelli che si trova in Piermerio. Io ho immaginato che voi siate venire alla Zanichelli e probabilmente arrivate a Bologna in treno. Allora prendete la strada principale che porta alla piazza, si chiama Via Indipendenza, abbastanza presto, sfondate a sinistra. Se venerdì trovate il mercato della città, molto affollato, proseguite. E arrivate davanti a questa sede onesta, insomma. Abbiamo scoperto che è il portico più alto della città, cosa popolosa. E però modesta, nel progetto di Veronesi degli anni 30 dovevano esserci due corpi come questo, uniti da una galleria. per fortuna è andata così. Io quando vi porterò dentro vi farò vedere due sali, una delle quali è collocata sotto la scritta casa della facciata, l'altra invece nella parte di fianco, che è a fianco a sinistra nella foto dell'elettrice, l'elettrice c'è il 28, cioè l'enerio il 34, l'enerio il 28, il 30 e il 32 non ci sono, si passa dal 34 al 28 e lì anche c'è una sala che vi mostrerò. Sopra, scritta a casa dell'elettrice Danichelli, c'è un terrazzo che era stato costruito per vedere le parate. fasciste nella città, curiosamente e credo nessuno l'avrebbe immaginato, invece da lì forse quest'anno il 30 giugno si vedrà il Tour de France, cosa curiosa. si vedrà il Tour de France e da lì invece, tra quella pericolosi, si erano visti i frappi che vanno portando nel 77 alla morte di Francesco D'Obsi. Se entriamo, possiamo vedere la biblioteca Pindemonte, dove portiamo ospiti di riguardo, quale voi certamente sarete, e in fondo, forse non si vede in fondo a sinistra, c'è un mosto di Carlucci, che è stato il primo grande autore della casa editrice. Ci sono tre statue di Walter, che erano della copertina dell'enciclopedia degli anni 90, la Taricelli pubblicava un'enciclopedia. In questa sala tenevamo le nomi del comitato editoriale, i primi mercoledì del mese, ora li facciamo, poi vi devono continuare a fare online, e si chiama Pindemonte perché le biblioteche intorno alle librerie sono di Polibus Pindemonte. È un luogo del cuore, su cui siamo una serie di editori molto al centro del cuore, della casa di mio padre, diciamola, che quindi è il mio padre, e quindi vedete che il padre è il mio padre. E in questa foto c'è anche Miro Giugliotti, che invece è nuovo, più da una decina d'anni, è stato direttore editoriale ed è prima curatore di un'importante edizione di Notizia Carelli. L'ho conosciuto, è una persona molto divertente per quale ho valoriso moltissimo in alcuni viaggi che facevamo in automobili per andare a Francoforte. Essere in macchina con Togliotti era la macchina con unione. Quindi vedete negli anni Ottanta con un'edizione dello Zincarelli accompagnata dal primo C.D. Rom. che possiamo andare. Questa invece è un'altra sala riunioni, che si prova tutto al 28, dai vetri colorati da un giovane artista che si chiama Giorgio Bardocci. Abbiamo fatto questa operazione a partire dalla sala cinesca che chi deve andare nell'ufficio personale che si trovano sulla strada numero 28 ed è una strada un po' degradata e abbiamo sempre dei writer. Allora abbiamo cercato, complice con conoscenze dei centri sociali, un artista rispettato dai writer che va al lavoro, devo dire molto bello, che ha fatto qui ampliare. Insomma questa sala è diventata un luogo piacevole e più amato dalle persone che fanno riunioni di lavoro rispetto alla Vindemonte, che forse metto un po' più un proprio agio. Tutti potete vederli ma ci sono nella prima retrata a sinistra quei foglienti che adesso si usano più a merito a vedere le ritmo e le finisce sempre quando sono presi li attaccano il foglietto. Durante la settacca lo foglietto, li stanno bene sul foglietto. Questo invece è l'ufficio, che prima era l'ufficio di mio padre. Era bellissimo, c'è questa foto anche che è negli archivi della stazione Calo, dunque con una scrivania, adesso forse si vedeva un poste meravigliosa, io non l'ho mai visto così, forse neanche mio padre, comunque è un posto molto bello. e da qui si vede l'orto botanico, cioè se voi venite dalle stazioni arrivate dalla Tarichelli se proseguite siete all'orto botanico agli edifici moderni dell'università, cioè la sede che originariamente era vicino all'articinato, la sede allora è stata spostata negli anni 30 verso la nuova parte universitaria della sede. E poi ho portato un'immagine del magazzino, noi abbiamo ancora il nostro magazzino che quando la foto ha alle spalle la parte automatizzata con un sito, un grande macchinario che funziona, noi facciamo soprattutto litoria scolastica e anche l'attenzione di portare i libri all'inizio della scuola in modo che la scuola cominci senza i topi è molto presente nel nostro lavoro è forse una cosa sempre al confine del passato però è un luogo amato dove si sente l'odore della camera si sente di più entrando al magazzino e l'odore della camera grazie 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 la seconda data storica è il 1872 il mio libri che è un editore che è il bello storico naturalmente e nasce da Ulrich che arriva dalla Svizzera segnalo soltanto che è stato un ibraio anche nella tedesca Vagonza dove perverle la metà del quattrocento ha inventato quest'anno quest'anno ma che ci ritisce ancora tutti poi naturalmente c'è Galleria dei Cristoforis quando era la più importante e più grande galleria in vetro e struttura metallica d'Europa ma ricordo soltanto volendo parlare nessuna parola al nostro testimonial colpiano i manuali i manuali fondamentali il primo è stato il manuale del vintore poi il manuale dell'ingegnere di Colombo che è forse il più longevo long seller dell'editoria italiana del novecento insieme con un altro titolo che non viene spesso citato che è il Calentario Atlante di Agostino che è data al 1971 e tutti gli anni viene riproposti nuove inizioni a giornata solo una curiosità tra le tante legate o libri che troverete nel libro l'ibreria entra Carlo Emilio Ganda compra un libretto piccolo il Dante minuscolo da mettere in un zaino al fronte sta partendo una grande guerra farà una preparazione nella mia Novara e questa sicuramente è una delle curiosità dei capitoli che fanno anche grande questa storia un'altra sigla mito un'altra storia importante Giovanni Ebi quinta generazione è presidente e però voglio ricordare almeno il papà che è ancora un grandissimo estimatore di libri e grande appassionato che spesso veniva da me a lezione con una sera cattolica raccontando quei sogni in cui dicevamo che diventano me grazie Giovanni grazie veniva anche non invitato giusto? ok buongiorno scusate io dal per tanti anni per tanti anni mi presento sempre la stessa maniera buongiorno io sono Giovanni Eppi sono la quinta generazione della famiglia Eppi natura nella casa editrice libraria Eurico Eppi e SBA più brevemente Eppi SBA insieme ai miei fratelli Barbara e Matteo vi grazie alla collaborazione di 95 persone tre oggi sono qua presenti vi ringrazio che sono un vero cuore che forse a noi bisogna dire motore dell'azienda oggi io sono qui per ringraziare Roberto Cicano ha scritto un bel libro mandare per i rigoghi ed editoria editori al mulino con l'anno di trovare l'Italia giusto? 14 euro in spesi perché sono 190 pagine 7 centesimi a pagina e ogni pagina ha decine di nomi di persone citati e titoli e libri iniziando con la prima pagina è una sorpresa vedere quante città legate all'editoria ci sia in Italia e come ricorda l'autore giustamente gentilmente nell'ultima pagina in cui chiede scusa che non ha trovato posto in questa estrema sintesi presi sardi non è nell'enche esaustivo ogni capitolo è pieno di informazioni e aneddoti per me è stata una lettura interessante e divertente ho imparato molte cose che non sapevo e ne ho ripassate altre qui sono dedicata a ripassare le cose della Öpli allora primo per la Öpli per la Öpli il luogo è Milano Galleria dei Cristoforis che qui vedete in fondo c'è il buomo di Milano e se notate si vedono i tram che stanno e le macchine anche che stanno ancora sulla sinistra quindi ragionevolmente una fotografia degli anni 20 o precedente Galleria dei Cristoforis descritta da Roberto Cicala come il primo passaggio commerciale italiano in ferro e vetro ovvero 120 metri di lunghezza aggiungo anche che c'era l'illuminazione elettrica negli anni 70 una delle primissime città in Europa se non la prima sul Milano dove il giovane dopo 10 anni circa di lavoro come libraio in tutti i paesi di liqua tedesca a fine dell'ottocento quindi dovete immaginare una zona di lingua tedesca molto ampia compresa Milano partendo da Turi fa dei giri si ferma in tante città quella in cui ha maggiore successo è Trieste a Milano poi decide di comprare una libreria perché si rende conto che è una libreria interessante multilingue molto moderna che rileva nel 1870 il negozio da un'ostria che si chiama Lengner due anni dopo nel 72 inizia a essere editore con il primo libro la galleria di Cristoforis venne demolita a causa del riassetto di Piazza San Babila nel 35 la libreria quindi luogo del cuore dell'azienda diventa poi via per sé dovrebbe sede la libreria la libreria antiquaria la casa editrice e il magazzino spazi che purtroppo vennero distrutti prima parzialmente dei bombardamenti del 24 ottobre del 42 successivamente no qui c'è unico che fa i giri che è di cartello poi ci sono ahimè i bombardamenti che è stato giusto non mandarli però ricordiamoci ci sono tanti bombardamenti il 24 ottobre 42 distruzione parziale e distruzione completa 16 agosto 43 poi adesso la libreria e la casa editrice sono in via 5 dove lavorano 95 persone come dicevo prima sono la vera forza della casa editrice utile ripeterlo perché il nostro è un lavoro di gruppo passando a me i luoghi di editoria e i luoghi del cuore dopo 30 anni di lavoro alla EU e avendo iniziato un po' prima di 38 anni fa io 58 anni appena ho tenuto la patente già portavo mio papà in giro alle fiere in realtà già andavo alle fiere prima della patente ma dopo la patente sono diventato il suo autista ufficiale per le fiere luoghi del cuore iniziato da qui il primo luogo del cuore è qui ed è molto legato alle persone che ci sono perché se non sbaglio alla fiera di Torino la prima volta è nel 1988 è giusto? sì ok la prima volta che io ho parlato in pubblico al salone del libro di Torino è stata nel 2000 o nel 2001 perché Giuseppe aveva organizzato un incopro che insieme a un ricordo quindi era previsto che venisse mio babbo non io a Lorenzo Enriquez tu stesso che non ricordo chi ha altro su editori ieri e oggi e io ero incitatissimo oggi sono molto contento che ci sei sempre tu poi c'è i regli quindi se Lorenzo è lì quindi sono tranquillo e poi tutti voi siete allegressi ma altro luogo del cuore oltre alla fiera di Torino è la fiera di Francoforme ma anche lì ahimè perché io ricordo perfettamente quando l'Italia fu ospite d'odore per la prima volta nel 1988 tu te la ricordi Giuseppe? e quindi è terribile perché io sembro apparentemente un signore relativamente giovane cioè insomma però in realtà molto relativamente e ho delle memorie insomma mi ricordo perfettamente Uberco Eco Andreotti c'era anche Cransi sono molto importanti nel nostro mestiere quindi sono luoghi sono cose fondamentali per me che lavoro in editoria i ricordi dei luoghi dove si fanno i libri e andare alle fiere è bello perché vedi molti amici e incontri un sacco di facce che sono allegre e divertite e contente di vedermi se poi tu gli racconti che sei lavori all'alzamento e lavori all'alzamento e lavori alla terza la gente quanto contenta a volte ti fanno delle domande molto buffe qualunque libreria in qualunque paese è un luogo dell'editoria e per me è un luogo non mi sento a casa lo stesso vale per le biblioteche in tutti questi anni partecipando al lavoro dell'associazione italiana degli editori mi sono appassionato dal diritto d'autore ringrazio moltissimo anche Federico Enriquez che mi ha insegnato moltissime cose nei decenni sul diritto d'autore e alla libertà di stampa quindi anche ogni occasione ogni congresso ogni tavola rotonda in cui si parla di questi due argomenti per me è un luogo del libro mi sento assolutamente a casa ricordo che questi due argomenti il diritto d'autore e libertà di stampa sono fondamentali per ogni editore le associazioni le associazioni di categoria che tu non hai citato come i sardi sono sicuramente luoghi di editoria quindi l'AIE l'associazione italiana degli editori luogo di editoria l'ALI l'associazione dei librai la federazione europea degli editori luogo di editoria la sede a Bruxelles importante anche l'associazione internazionale degli editori che si chiama IPA o in inglese IPA che ha sede a Cinebra finisco puoi far vedere le ultime due immagini quelle con l'Italio un ricordo qui non aveva figli quindi tutti i soldi li ha destinati in fondazioni e in Italia ha avuto una buona idea di fare cose pratiche fisiche resistenti quindi se capite a Terminano c'è il planetario EMPLI al parlo ai giardini pubblici questa è la sede della libreria EMPLI questo è il mio papo e forse può mettere anche gli ultimi tre che adesso vanno avanti l'azienda si vedono non sono loro per tornare al libro di Roberto Cicala vi permetto di dare due piccoli consigli a tutti il primo suggerimento mentre lo leggete appuntatemi nella maniera che preferite tutti gli argomenti io ho usato un po' di post-it finiti post-it la matita finita la matita la diro va bene qualunque cosa perché ci sono un numero di argomenti l'altro fa unire mostruosi mostruosi l'altro suggerimento è immaginare se per caso siete spaventati dal lavoro e di informazioni il libro come guida turistica quindi girate l'Italia con questo libro oppure se andate a Venezia ricordatevi di portarmi dietro il libro a Bologna e a Milano e così via grazie 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 in verità hai un'associazione solucinale accolgo molto velocemente intanto abbiamo ricordato ogni tanto i relatori ricordiamo alcuni che sono presenti io ringrazio molti molti studenti ma ringrazio anche un amico Romano Controni che è il mezzo di storia della nostra editoria passiamo alla terza 1901 con una storia però ancora unitale vivace basta entrare nello studio di Giuseppe la terza subito sulla sinistra e vedere una bachecca dove ci sono appesi volantini fogli ricordi visto anche un menù barese per una fiera di francoforte tutto inizia con un suo amo che si chiama come suo abba Vito che insegna il titolo zilbanista poi torna in Puglia vuole aprire una cartoneria una cartoneria però venda anche un po' di libri scolastici prima a Putignano poi a Taro poi a Bari e poi decide di creare la ditta ma come fare? perché è minorenne? allora fa nel nome del padre ci mette anche i fratelli uno dei fratelli addirittura aveva soltanto 9 anni quindi una storia di intraprendenza assurda straordinaria poi nel 1901 la casa editrice croce e allora con croce probabilmente gli astri si allineano e si creano quelle di successi come capita quando si vince la centri ecco la terza presidente è sicuramente un uomo legato ai suoi luoghi allora chiediamo quali sono i suoi luoghi grazie buongiorno intanto grazie mille agli amici del Muin Andrea Angiolini Daniele Bonato tutti quelli che sono qui Muin è una casa editrice in cui siamo in fiera competizione nel senso che la stimiamo moltissimo siamo molto simili per tanti me siamo molto diversi la storia del Muin insomma siamo molto simili pensato leggendo il libro che come detto giustamente non so se Irene ha giocato in tutte le case editrice sono imprese collettive insomma se uno nella mia esperienza se uno pensa come nasce un libro non c'è mai un ideatore è un processo circolare uno pensa una cosa poi la contribisce e sente un'altra arriva un come apre la porta non so se funziona però così da noi tutti aprono la porta continuamente quindi certamente è successo a capire via che ci sono 5 persone in fila perché arriva uno e dice scusa ti interrompo un attimo mentre c'è un altro seguito mentre mi sta parlando un altro seguito scusa ti interrompo un attimo si crea un gruppo di persone che si interrompe che ascoltano però utilmente quindi c'è uno spreco di informazioni apparentemente è una cosa che è un intero milanese terribile perché però è utile perché è utile che nell'ecosistema il mulino è una casa editrice che ha una inizia molto interessante perché essendo tutte le case editrici prese collettive però la gran parte delle case editrici ha l'editore cioè c'è una figura come si vede nel racconto a fare non il mulino certo che ha l'editore o agli editori ma l'aspetto collettivo è quello che emerge in più come dire in maniera più mi ringrazio moltissimo anche Roberto Cicala perché ha fatto un libro che si chiama I luoghi in editoria ma che è molto di più cioè se qualcuno oggi mi chiedesse e mi chiederà ma cosa posso leggere con un libro breve sull'editoria italiana sulla storia dell'editoria italiana mi ringrazio questo e scusatemi dentro il mio tempo vi rubo due minuti per dire cose con tutte note ma che leggendo il libro sono molto il primo quello che è stato detto anche da Daniela guardate la cartina la cartina dice una cosa evidente l'editoria italiana è diffusa in tutto il paese con una prevalenza del centro nord ma in cui ci sono luoghi insospettati insomma in questa cartina non solo c'è Cantanissetta Palermo Catania ma c'è Natriano San Cesario di Lecce Cala dei Tirrelli Subbiado tu sapete che c'è un editore subbiato io ignoravo e cioè insomma tanto per non fare polemica i nostri amici milanesi mi ricordo il mitico Gianni Ferrari un uomo di grande intelligenza ma di un'arroganza spaventosa quando decisero che si doveva a Milano mi ricordava basta Torino è che l'editoria si fa da noi i milanesi erano questo bravo sono leggermente autoriferenziali cioè loro non hanno bisogno dell'Italia anzi se non l'avesse sarebbe meglio perché loro sono europei e quando hanno deciso che bisogna andare a Milano l'editoria si fa da noi io dissi guarda Gianni l'editoria non si risolve nel fatturato una piccola osservazione se lei che peraltro ha fatto anche un bel fatturato non vale per il fatturato vale perché magari si dice che rappresenta qualcosa nella storia d'Italia per dirne uno ma lo stesso poi si può dire o Marsini o Rinaldo ecco da questo punto di vista è molto interessante la cartina prima osservazione seconda osservazione spado rapido sono cose che conoscete tutti la descrizione dei soggetti Arnoldo Mondadori è come Berlusconi impressionante cioè andate a pagina di 45 ricorda Valenzino Pompiani gli scrittori in antiterumera brontolavano per la sua inerfera militare Mondadori apriva la porta al suo studio stanno attraverso su una soglia largo aperto al suo viso tendeva la mano come gli acromatiche si aiutano al salto e tirava dentro il visitatore parlando sempre lui sfilava dall'alto le proteste le faceva su il povero uomo che deve occuparsi del cerebricio le prometteva il doppio prometteva il doppio di quanto l'altro si era inutile a chiedere io dico che in questi momenti ci credeva anche lui sotto la sua accortezza c'era un candore che lo scattava lui ci credeva anche Berlusconi ci credeva lui ci credeva credeva la storia la politica la fama la finanza nella pagina successiva ci racconta che Mondadori è forte con il finanziatore il senatore Borletti il senatore come di fatto molto ben introdotto anche agli altri del regime sa che può prendersi il fatto è soltanto offrendoci ad annunzio un contratto da favola e per questo anche il tetto una stanziamento di 6 milioni da parte dello Stato cioè si fa pagare ad annunzio dallo Stato fantastico per lo scopo cioè il modello di un signore che è straordinario come poi veniva dal figlio di un canzolaio ambulante quindi intui e dimostra una cosa quello dice ma se mai che c'è una riflessa tra Tolstogli e Dostogli ma che sono che hanno abbondato questi due nell'editoria contro due cose mi sembra poi intuito e curiosità cosa che mi papà mi senta detto guarda l'editore ignorante ma quando ti trovi di fronte a questi personaggi come poi immenza e carrucci cioè non sa niente devi essere curioso e deve avere intuito cioè devi avere capito prima osservazione stessa cosa per Rizzoni adesso non mi ripeto altre cose interessanti paradossale tu c'hai due signori Rizzoni e Mondadoni che vengono tra l'altro uno da un canzolaio l'altro inciapattino c'è una torta lì per le scarpe diciamo che lavoreremo su e nella loro vita politica sono degli opportunisti assoluti cioè traffico con chiunque con il regime l'importante è fare business non è che sono fascisti utilizzano come materie no? che dicevi partiti come sono quei tax sono del culto spingi duccia invece multimiliardario come Feltrinelli che per riscattarsi diventa un laxista per non parlare di Enaudi c'è storie paradossali no? ultima notazione ultima notazione ultima notazione è una storia dove però l'editoria si in insomma come dire si intersega fortissimamente contro il Medici e con la tipografia sono tipografie liberali e questo è molto interessante perché c'è un pregiudizio il nostro lavoro che voi tutti conoscete soprattutto qui traficano gli umanisti per cui da una parte c'è d'altra cultura e dall'altra c'è il fine commercio in caso ci scherziamo sempre dicendo cos'è questa affermazione esquisitamente editoriale o bassamente commerciale forse bassamente come ora l'editoria ha una smentita di questo i progetti i grandi progetti come quello di Enri di Zanicheni del Molino cosa sono? sono progetti puntuali nella misura in cui sono progetti di successo commerciale e imprenditoriale la straordinaria qualità del nostro lavoro ma anche quello di Romano Montrone è di due hai insieme le due progetti un buon bilancio nel tempo non è che tutti i libri erano uguali a me ma nel tempo come dire il successo di un'impresa è insieme se voi pensate con 84 con 84 succedono due cose e fallisce Inaudi ma non mi sarei controllati e Adelfi diventa l'editoria di Munche e l'editoria di Munche esisteva dal sessato tu in quell'anno o in due vicende l'editoriale che intrecce il cambiamento culturale 84 gli anni 80 sono anni in cui la cultura italiana cambia da grandi progetti collettivi in Audi a un signore come Calasso che dice io non ho nessun progetto faccio i libri che piacciono a me avete letto i libri di Calasso e Bob straordinari io faccio i libri che piacciono a me io non voglio copiare ma tu capisci come il nostro lavoro è straordinario perché come dicevo avete letto il libro di Unser che diceva ci sono i libri di un terzo occhio dice il primo è volta lettore il secondo l'ottore il terzo il più importante è al portafoglio il nostro lavoro è insieme è questo scusate ho preso troppo tempo mi chiudo soltanto questa che vedete è la saletta della nostra sede di Roma perché la casetrice nasce a Pari poi mio padre che entra in casetrice all'inizio degli anni cinquanta la sente più frequentemente a Roma con i sogniatori poi diciamo c'è la tutta che c'è anche una moglie romana quindi diciamo queste cose puntano la apre una sede prima al centro e poi questa a livelli di Lasacchenti questo è il salontino dove si sfoggevano piccoli defile di sardoria questo abbiamo scoperto cioè la sede ospitava e quindi c'era questa balconata dove il proprietario perché noi siamo in affitto da sempre faceva suonare il suo matrimonio ai nonni i violinisti e noi ne facciamo i nostri conti vedete qui delle fotografie e informazioni diverse questi sono alcuni luoghi sono la mia stanza dove facevamo delle mie editoriali vabbè di fronte al nostro portone quella è una foto straordinaria perché la serie fare l'Europa c'è Jack Lecoff con cinque casettrici europee con cui abbiamo fatto questa impresa di progettare i libri insieme che è una cosa fantastica e questa è la foto della nostra liberia perché poi c'è nel libro anche la parte barese che per noi è molto importante noi siamo una casettrice un po' schizofrenica nel senso di Bari e Roma insomma sono due città abbastanza diverse però con credentari perché Bari porta alla casettrice a un fortissimo senso di impresa Bari è una città che è andata la mattina alle sei di questi tempi all'Undomare di detenuti dalla città con prese signore di una certa età che corrono e parlano ecco questa è la città c'è una città che ce la vuole fare è una città il cui segno di istintivo è questo ma andiamo a stringere il barese dice perché compreste quando io sono andato in calestice i primi anni andavo a Bari e passavo le serate con il padre che lavoravo tutto il giorno poi alle nove più o meno si presentava il direttore commerciale per noi la fondamentale si chiamava Domenico Scopio e se andavamo al momento questo è un piano sulla rateale ci si lo facciamo e poi carticelli da doppio velo e mio padre non batteva città perché perché io vado a leggere Milanci era laurato in filosofia con Garema mi ha insegnato che come io non ci deve fare problemi ma anche a parlare della città si dice proprio bene grazie mille per questi interventi che è messo che siamo di fronte non tanto a prodotti quindi ma anche a esperienze concessi questi le anche la città editrice dove c'era e ci erano sfilati di alta sartoria e alla fine nel nostro caso noi ci sono di sartoria ecco esperienze sogni che dicevo all'inizio elaborati da un'industria che è stato portato da tutti è un fatto di imprenditoria privata eppure come diceva Giacomo Fendrinelli editoria è privata ma è un bene pubblico e questo è molto molto importante ecco e questo almeno è una delle cose che ho scoperto che spero possiate sentire voi in questo viaggio nell'Italia dei libri è un viaggio di scoperta come la intendeva quando diceva che non dobbiamo andare a cercare tanto luoghi nuovi ma come nel manifesto del salone del libro di quest'anno luoghi da capire con occhi nuovi inforcando quegli occhiali che vediamo occhiali per sognare che forse sono proprio i libri e forse spero sia anche questo libro grazie buona lettura grazie